Paolo Colamavia, attaccante della FIP Giovinazzo. Paolo, quali sono le tue considerazioni al termine di questa partita? Beh, è stata una partita abbastanza difficile. Ci siamo preparati per questa partita tutta la settimana. Il Sardano è stato molto bravo e è entrato in campo con la testa giusta, anche perché la pesta del Giovinazzo non è una pesta difficile. Abbiamo saputo tenere la partita, abbiamo seguito il Meister e tutto sommato è andata bene, dai. Grazie a Paolo Colamavia, attaccante della FIP Giovinazzo.